Buon pomeriggio amiche e amici, come va? Come state? Spero tutto bene, ma prima di tutto il saluto della nostra dolcissima regista! Ciao a tutti! Oggi amiche mi vedete qua tutta tutta pettinata e voi direte, eh, oggi si è pettinata? Ho copiato la regista. Allora, adesso ve lo spiego subito, subito, subito come prima cosa. L'ho vista pettinata, così carina, così caruccia e lei mi ha detto, eh, guarda che ho fatto lo slick. Back. Back, ok. Cioè che è slick, leccata tipo di mucca, back all'indietro. No? Una mucca che ti ha leccato all'indietro. E ho detto, ma bellina questa acconciatura, ma come hai fatto? Eh, quando non hai i capelli puliti, puliti tipo al secondo giorno, no? In realtà lo farebbero con la spuma, con la lacca, così. Ok, invece gli altri più furbi lo fanno al terzo giorno se non hanno voglia di lavarsi i capelli, così li la... Cioè, terzo giorno, sì, uno. Allora, il primo giorno è il giorno in cui li hai lavati, che li hai belli, tutti i belli gonfi, no? E li lasci sciolti. Al secondo giorno ti fai la coda, al terzo giorno ti fai la leccata di mucca, che ora si chiama slick? Back. Ok, ce la posso fare. E al quarto giorno li devi lavare, perché se no non va bene, ok? Quindi tre giorni, che poi è giusto, no? Lavarli ogni tre giorni. Cioè, al terzo giorno, la sera, qua li laviamo. Sì, sì. Perché se no, poi prutto non danno fastidio, non è neanche igienico, secondo me. Poi dipende, ecco, se uno ci mette tanti prodotti, se suda, se non suda. Io, per esempio, non sudo per niente, però anch'io, al terzo giorno, sono già magari i capelli un po' sporchi, perché dipende anche dall'aria, dipende anche se li tocchiamo. Io sono una, per esempio, che se li ha sciolti, mi fanno il sollettico, mi danno fastidio, tocco un sacco i capelli e quindi si sporcano. Perché magari ho le mani, no? Ovviamente pulite al 100%, se ho toccato cose in giro, poi mi tocco i capelli, no? Non va bene. Infatti non sarebbe mai né da toccarsi il viso, né da toccarsi i capelli. Ma io non sono quel tipo di persona capace a non grattarsi se gli prude a me. Se prude la faccia, io mi gratto, non ne frega niente, se sono truccata, faccio un buco, praticamente, nel fondotinta, se ho prurito. Tanto più i capelli, se ho prurito, mi sta venendo prurito solo a parlarne. Se mi danno fastidio i capelli, io me li tocco e me li sistemo. Però quando ho visto la regista così carina, pettinata, così, ho detto, mo lo faccio pure io. Ed ecco qua. E mi sa che risultano un sacco gli orecchini, no? Ho il collo tipo la Modigliani, così. No? Non era Modigliani che c'avevano il collo nelle opere d'arte lunghe? Ma mi sa che ho detto qualcosa che non va bene. Fatemi sapere nei commenti se ho detto una cosa sbagliata. Ma io penso di no, che fossero tipo le opere di Modigliani. Mi pare di ricordarmi questa cosa. Fatemi sapere se vi piaccio, pettinata. Così e soprattutto se anche voi utilizzate al terzo giorno, al secondo la code, al terzo la leccata di mucca all'indietro. Sleek, back. Non penso che voglia dire questo. Sleek, così. Ah, che pensi quello. Back, all'indietro. Cioè che... Sarà così, no? Il sonoro è qualcosa di eccezionale, secondo me. Vero? Immagino, immagino. Io, innanzitutto, devo dire che me lo sento che mi scende e che mi dà fastidio. Perché la Regi mi ha detto, ti fai questa congettura? Ora ve la spiego, che ormai la sanno fare tutti, mi ha detto. Io ero rimasta indietro. Però, come sembra i dieci semafori indietro, il mio problema è che io non guardo nulla, o praticamente quasi nulla, né nei telefoni e né in televisione. Per esempio, c'è il fatto che tutto il mio tempo libero lo utilizzo a registrare, a editare e quindi a fare i contenuti e mi rimane poco e nulla tempo per guardarne. E quindi rimango indietro con le mode. Anche per... Lo sapete. Per quanto riguarda i prodotti make-up, a me non me ne frega nulla di provare la novità top del momento. A volte la regista viene da me e mi dice, no, ma provalo un po' di più quel blush, guarda che è virale. Ma se io non ho voglia di utilizzarlo, a me non me ne frega nulla, io utilizzo quello che magari è uscito un anno fa e a me piace tantissimo. Soprattutto io non utilizzo mai le stesse cose, ma tutti i giorni cerco di utilizzare sempre un prodotto diverso, una palettocchi diversa, in modo da farle girare innanzitutto, tutte, utilizzarle, consumarle nel tempo insieme a voi, e abbiamo modo anche di vedere come performano. Perché? Io non credo assolutamente che provandole una volta sola, uno sia in grado di capire se gli piace oppure no. Perché vi ricordo che in molte palettes ci sono addirittura 35 colori, come abbiamo visto in quelle di Morphe, ma a me non me la raccontano che la provano una volta e hanno capito tutto. Se ci sono 35 colori, abbiamo almeno 35x2, se non 35x3, se non 35x35. Possibilità di combinazioni differenti. E quindi quelle bisogna provarle, non bisogna fossilizzarsi sempre, utilizzare gli stessi colori perché siamo confidente, ci stanno bene. Io questo non lo dico solo a chi mi guarda come amiche della family, lo dico anche alle colleghe, alle content creator, che è facile, no, stare dentro alla comfort zone, perché sappiamo che con la nostra colorazione di occhio, magari azzurro, quel particolare grigio ci sta benissimo e siamo delle tope atomiche, no? E no, tu devi far vedere anche gli altri ombretti, quelli con cui sembri una cacchetta, no? Quelli che non ti stanno bene, perché in realtà a noi, detto proprio tra noi, fuori dai denti, ma cosa ce ne frega di vedere quello che sta bene alla persona, no? Alla fine non me ne frega di vedere quello che sta bene a me, ma vi frega di vedere com'è la sfumabilità, com'è la colorazione di quell'ombretto quando viene applicata, quando viene sfumata. In realtà non si guarda il mio viso, è solo una tavolozza utilizzata per provare quelle colorazioni, quelle texture, quei prodotti, per capire se sono sfumabili tra di loro, abbinabili, quante combinazioni di colori possono uscire fuori, che io stia bene o stia male con quel determinato colore, frega niente a nessuno, secondo me, ed è giusto che sia così, quello dovrebbe essere, io dovrei solo essere una tavolozza bianca utilizzabile per fare il make-up test, no? Cioè, non test nel senso di vedere se mi fa allergia, ma nel senso di testare le colorazioni e le formulazioni, non da un punto di vista di allergia, ma da un punto, perché a me io mi posso spalmare pure il fango del pavimento, che non mi fa allergia praticamente nulla, ma la sfumabilità, il vedere se è pigmentato, se colora, se è tanto shimmer, se è poco shimmer, se si sfuma bene, rendendo, diciamo, il make-up omogeneo, no? Se si fonde quell'ombretto che magari nella stessa palette è matte e di fianco ce n'è uno shimmer, un altro luminoso, un altro un po' glitterino, quando creiamo il make-up, vedere se poi si fonde il tutto o se sembra una maschera, alla fine, perché magari non si sfuma, fa le patacche di colore, utilizzando il primer, altri giorni senza il primer, utilizzando lo scotch per fare anche l'eyeliner, non l'eyeliner con l'ombretto, ok? Intendo, perché qua oggi ho l'ombretto. Vedere quanto dura nell'arco del giorno. Io per questo sono qua con voi la mattina, lo applichiamo, il pomeriggio lo vediamo. Sapete che possono esserci nell'arco dell'anno? Quanti giorni abbiamo nell'anno? 365. E non sono pochi. Può succedere che magari un giorno io vada in piscina e quindi quel giorno lì non vedete l'ombretto, no? Il pomeriggio lo stesso. Magari ne vedete un altro, magari vedete una cosa leggera. Ma questo, in un anno, quante volte è capitato? Da quando mi conoscete? Perché ora io sono presente qua da ben un anno e un mese, tutti, tutti i giorni insieme a voi, mattina e pomeriggio. È capitato forse tre volte nell'anno. Quante volte mi sono messa qua in malattia e non ho registrato? Nemmeno una volta. Ho registrato anche malata perché non stavo male abbastanza. Vi ho sentito? Qualcuno l'ha pensato? Sì, è vero. Non sono stata male abbastanza. Vero gli scorruso e gli scongiuri di non stare male. Devo dire che questo mese abbiamo rischiato perché sono andata in crisi come si può dire, no? Psicologica. In crisi? Come si può dire? Ero triste. Sono andata un po' in crisi io da un punto di vista psicologico perché ho avuto alcuni giorni il terrore per il morso della zecca e quindi ho rischiato di non registrare perché mi veniva da piangere. Ero tanto triste. E voi direte perché? perché mi ha fatto allergia fortemente e non sapevo bene se dovevo aspettare ancora se dovevo andare a farmi vedere seriamente da un dottore perché di notte però mi ha fatto allergia di giorno non mi dava fastidio e di notte mi prudeva tantissimo e si vedeva la macchia allargarsi ma non con la tripla macchia che è sintomo di allergia vera e propria quella da antibiotico ma una macchia prettamente anomala che può essere data dal fatto che io sia allergica in generale ai morsi di qualsiasi insetto perché sia con le zanzare per un mio problema proprio mio sia zanzare a piranni mi creano dei ponfi assurdi anche grandi così gonfi rossi e perché è proprio il mio corpo che reagisce al di là che ci sia un problema e quindi il mio corpo combatte però sono stata parecchio sconfortata e quindi abbiamo rischiato però diciamo che mi sono fatta a forza mi è anche servita quella mezz'ora insieme a voi come terapia mia perché ho registrato qua con magari la regista non ho pensato per mezz'ora mi sono tirata sul morale tantissimo e dopo vedevo già tutto più roseo ok e quindi va bene sicuramente se uno non ha un problema grave secondo me è meglio che si tiri un po' su e poi vedere un attimo io ancora diciamo che non lo so perché sono stata ammorsicata l'ultimo mese l'ultimo giorno del mese scorso a ottobre ad Halloween l'ho scoperto ed ero stata ammorsicata 5 giorni prima circa e io l'ho scoperto ad Halloween come è strano che sia notte e poi adesso abbiamo un mese di tempo per capire ancora metà mese si in tutto c'era un mese di tempo in cui può fare veramente allergie bisogna capire e intervenire con l'aiuto di un dottore che ti dice insomma quale antibiotico devi prendere che terapia devi fare ma vediamo vediamo perché ancora non è detto bisogna valutare con calma aspettare capire e semmai fare gli esami anche approfonditi del caso per capire un attimo però siamo diciamo in quella fase antipatica in cui si deve aspettare a me queste fasi così mi fanno caghe perché mi cago in mano una persona che ha tanta paura in generale non ho paura di stare male di soffrire ma mi fa l'ansia ecco del sapere di non sapere ancora come va a finire insomma ho paura penso che la paura sia normale il mese di novembre comunque io ci tengo a dirlo fa veramente schifo tutti gli anni io il mese di novembre non lo amo per niente non mi piace il mese di novembre lo posso dire non mi piace il mese di novembre non mi piace saltiamo l'anno prossimo da ottobre si va a dicembre l'unica cosa è che c'è l'ultimo giorno il compleanno del nostro dolcissimo opinionista e quella è l'unica nota dolce di tutto novembre no? per me fatemi sapere cosa ne pensate di tutto questo discorso che ho fatto i vostri commenti mi riscaldano sempre tantissimo l'anima e mi aiutano anche a stare bene e poi avevamo il bigliettino oggi che è stato un po' strano perché io volevo dedicare il make up di oggi alle verdi come le cavallette invece poi ho detto no ma è verde come molly come buttercup e quindi il biglietto è rimasto diciamo un po' appeso come un ragno con lo suo filo di ragnatela al muro al soffitto perché in realtà la cavalletta forse ce la tiriamo fuori un altro giorno perché la prima volta che provo una palette la voglio dedicare sicuramente a quel personaggio non mi andava di mettermi con la manina in alto e la cavalletta sulla mano lo facciamo ma un altro giorno perché sapete che amo tutti gli animali del pianeta mi piace l'idea di dedicare a ognuno di loro un video però non potevo non dedicarglielo a molly mi sapeva molto carino allora ho voluto fare questa scelta un po' diversa dal solito perché mi va in conflitto il biglietto no? però vabbè so che voi capite che anche io sono umana mi sono diciamo corretta in come si dice in viaggio in corso d'opera quindi così abbiamo anche da dire il personaggio del guizzettone cartunoso di ieri chissà 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 a quante persone arriverà mi raccomando girate inoltrate condividete il video a manetta a tutte le amiche e agli amici amanti dei cartoni animati degli anni 80-90 perché qua si chiacchierà sempre oltre che di make up anche di cartoni animati e voi direte i alla tua età e pure più da vecchia sì lo faccio lo faccio tra l'altro oggi con questa mi sento un po' cioè allora aspettate piccola parentesi la regista era carinissima con questa pettinatura sembrava una bambolina bellissima lo faccio io sembro nonna belarda ok io mi sento troppo veramente nonna belarda così mi ci manca una bacchetta di legno da dare sulle dita a qualcuno non lo so mi sento vecchia così mi dite se faccio veramente cagliere pettinata così perché a un certo punto mi sono visto e ho detto che carino dai look sofisticante poi mi sono guardata e ho detto no nonna belarda brutta che non si può neanche vedere da lontano è vero però che è comodo per i capelli se sono un po' sozzetti ve lo potete giocare però secondo me se siamo anche un pochino agé si può dire così sono un po' perché comunque ho il capello bianco che devo tingere ma non ho voglia non lo so perché comunque pettinata così i capelli bianchi si vedono ancora di più mi sento nonna belarda che poi è belarda perché una nonna a caso la nonna e la vostra vicina di casa non lo so che va a comprare alla frutta in ortofrutta e così mi sento un po' così ecco non lo so ho messo l'orecchino forse anche l'orecchino però non è che mi svecchia tanto boh tu cosa dici? no non è secondo me dai non è vero già è pago secondo me la regista è troppo buona è perché mi vede con gli occhi della figlia no? che dice no mia madre non è anziana invece io così mi sento ecco questa è la terminologia corretta mi sento un po' anzianotta così non lo so forse perché io la mia nonna del cuore l'ho sempre vista pettinata così assolutamente non con lo scrunchies perché io qua per svecchiare un attimo la pettinatura la regista mi ha detto non ci mettere le forcine quelle per capelli delle nonne mettici lo scrunchies così che svecchia e io ho detto va bene allora mi svecchio con lo scrunchies però mia nonna la faceva precisamente così la pettinatura solo che metteva le forcine per i capelli e ho detto là che mi è toccato anche a me pettinarmi così solo che loro si pettinavano così all'epoca sempre 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 cioè non è che era la pettinatura del terzo giorno era la pettinatura anche del primo tra l'altro aveva i capelli lunghissimi meravigliosi e li pettinavano così io adesso non li ho più lunghissimi anzi ho detto volendo rifare questa pettinatura se vi piacerà me lo fate sapere nei commenti così valuto perché magari a volte io mi vedo che mi avete detto che ho quel problema di vedermi molto più brutta che è proprio un disturbo la dismorfia una roba del genere me l'avete detto dismorf no dismorfofobia una roba così vabbè comunque che io mi vedo molto peggio addirittura mi hanno detto l'altro giorno grazie io mando un bacio grandissimo sempre a tutti ma in questo commento mi ha proprio così ho detto ma dai davvero mi ha scritto no ma tu sei una bella donna oh io ho detto grazie questo mi vede con gli occhi affettuosi perché questa amica che scrive così ho detto ma no io bella donna no perché se mi vedi senza trucco cioè mi vedi all'inizio del video senza trucco quindi no ci siamo capiti come direbbero in Sardegna e io me lo lo accetto anzi il cane è più bello perché in Sardegna si dice legge ogai e invece i cagnolini sono belli io mi sono sempre detta questa cosa da piccolina quando sentivo qualcuno che commentava la la stiada legge ogai vuol dire la guardala è brutta come un cane e io dicevo ma perché dicono così la che il cane è bello perché io cagnolini gattini ho sempre avuto questa passione magari è vero passa una che è brutta però magari è buona no è simpatica perché dire così e poi perché paragonarla a un cagnolino cioè no stavo quando sentivo l'ho sentita spesso questa frase a me mi si proprio mi si spezzava il cuore e mi veniva da piangere e poi mi dicevano a me è certo che a te non ti sta bene pure tu sei brutta e io dicevo difendi la categoria mi dicevano allora non toccherà stare zitta però io sono sicura che anche se fosse nata bellissima in qualche modo mi avrebbero fatto sentire comunque inadatta comunque difettata perché in questo mondo probabilmente ci trovano un difetto anche se in realtà quel difetto che stanno sottolineando è un pregio perché il fatto magari io di commuovermi così in modo forse esagerato può essere anche un pregio il fatto che io non passi dritta se vedo qualcuno che sta male l'altro giorno è caduta una ragazza poverina l'ho raccolta caduta male andava correndo è caduta ma tutto anche il faccino nel pavimento e io l'ho tirata assù e invece altri guardavano nord occhiavano e ho detto cosa c'è da ridere è caduta la che si è fatta male e l'ho tirata assù e mi ha ringraziato ha dato una facciata nel pavimento e invece c'era chi guardava e rideva e io ho detto ridi dopo capisco che abituati anche dei programmi comici che se uno cade fa ridere e lo capisco però vedi che se cadi te non ridi più no? giusto? e quindi il mio primo cosa mi stavo mettendo a piangere ho detto oh gli ho detto ti sei fatta male questa non voleva cioè perché voleva passare inosservata io invece col mio oia si sono girati tutti eh ma però l'ho tirata assù perché non la potevo vedere nel pavimento si è praticamente si è sciolta pam è caduta e si è liquefata nel pavimento e ho detto dai che ti tiro su vieni qua mi dispiacevo poi mi ha ringraziato tanto carina però ho visto che si è imbarazzata io però e di mio primo coso è stata quella dell'esclamazione perché ho detto c'è si è rotta qualcosa ho detto ce l'ha ancora il naso quando l'ho tirata assù perché ho detto adesso vedo qualcosa che mi spaventa e io bomba eh si quello è il mio problema e si una volta ho preso ma se si lo ricorda una mia amica dalle scale è caduta in una scala di quelle con i buchetti no si è incastrata non so come ha fatto perché non aveva nemmeno i tacchi ma si è incastrata andando è incastrato il piede quindi è volata non ho capito ma hai chiesto le scale con i buchi si tipo quelle di ferro che sono fatte un po' ok ok e come gli ha fatto incastrarsi non lo so gli si è incastrato tipo sai tipo le timberland non so che hanno un po' il carro armato sotto e gli si è incastrato e ha fatto così alzandosi e poi si è impicchiata in giù ma io l'ho presa l'ho presa precisamente così che non so come ho fatto a tenerla e l'ho rimasta giù così e io l'ho tenuta però sono riuscita a tenerla e mi ha detto oh mi hai salvato grazie e io super l'allix così si si l'ho tenuta l'ho presa al volo l'ho tenuta invece un'altra mia amica l'ho presa alla faccia una volta ero ragazzina si è caduta non so come ho fatto l'ho vista che stava accadendo io ho messo la mano in avanti così l'ho presa alla faccia ah per tirarla su si e lei è rimasta così così e mi ha detto oh yeah che male grazie è un colpo di frusta ho detto però perché capito io l'ho tenuta non al collo l'ho tenuta alla faccia si alla faccia comunque perché mi dispiaceva che sbatteva il raso anche quella questa non l'ho fatto in tempo perché era lontana se no io ho l'istinto di prendere come appunto io ho sempre avuto l'istinto di prendere i figli e me è caduto qualcuno se io ero vicino ho sempre preso tutti al volo al volo e sono tipo sapete quei cagnolini quando gli tiri il frisbee uguale che poi io se devo giocare a pallavolo o devo prendere cadi tu no io non lo prendo non lo prenderò mai no mai in faccia lo prendo se mi dici anche di giocare a tennis però la pallina è là e io la pallina è qua io cioè non ho nessun riflesso di prendere nulla se stiamo giocando a qualcosa per me è un incubo se devo giocare a ping pong con i miei figli io gli dico no dai hai già vinto no perché non c'è gusto io non ce la posso fare innanzitutto mi viene l'ansia e da piangere voi direte che pigna questa e lo so però quello è proprio un difetto mio probabilmente io metto tutto il mio equilibrio e la mia concentrazione se cade qualcuno quello lo prendo di sicuro fatemi sapere se voi siete gente che cade o gente che rimane in piedi perché ci sono quelli che hanno la caviglia debole e cadono sempre io per alcuni anni non so come mai ho avuto la caviglia molto debole adesso molto meno e quando mi si storce la caviglia e cado urlo ah così e il marito si arrabbia tantissimo e mi dice lo devi smettere mi fai spaventare così e gli dico ma tu non ti rendi conto amore mio che io non lo faccio apposta a me l'urlo mi viene proprio dall'anima perché sto cadendo e ho paura che muoio in quel momento quando atterro no sai che lui si arrabbia si arrabbia ma tantissimo si incavola proprio e mi dice eh smettila di cadere smettila di cadere se io lo sapessi prima non cadrei cioè smettila di cadere non si può sentire comunque detto questo che non mi ricordo assolutamente perché e da dove siamo partiti la regista mi guarda così e mi sta giudicando male in questo momento no non lo so stavo pensando non lo sai eh non lo so a volte lo fa a volte lo fa dalla pettinatura il personaggio di ieri l'abbiamo detto no ok era Biscus Takabayashi ok era Biscus io me lo ricordo per il nome ma io me lo ricordo Ibiscus perché mangiava le tagliatelle io mi ricordo solo questo e lui ha recitato nel cartone animato L'Alabel L'Alabel è stato il primo cartone animato di cui io ho memoria infatti è se non erro del 1980 e poi è stato trasmesso anche nel 1981 e io lo devo aver visto intorno ai 4-5 anni nel 1984 e 1985 chi era Ibiscus appunto è ha recitato con L'Alabel ed è un mago malvagio che ha rubato la seconda valigia di oggetti magici alla protagonista che appunto è L'Alabel per poi andare sulla terra e diventare una celebrità non voleva diventare un influencer quindi dopo aver assaggiato per la prima volta un piatto di tagliatelle ne diventa così ghiotto al punto di essere diventato il suo piatto preferito per lanciare le sue magie si serve questo me lo ricordo benissimo di un bastone da passeggio perché io gliel'avrei voluto zaccare in testa perché era antipatico dal cilindro del cilindro magico con un fiore di ibisco da qui il nome biscus e all'occorrenza posare i lunghi baffi usando la formula Alip ok poi aveva anche un gattino di nome Sebe che era la sua mascotte comunque gli scassava un po' l'anima a L'Alabel quel cartone animato era bellissimo anche perché io sapete che all'anagrafe mi chiamo Laura ma questo nome non mi suona per niente io mi sento da sempre l'Alix ma da piccola mi chiamavano L'Alabel e quindi perché dicevano che ero Lala Laura no Lala Lala e Bella Bell L'Alabel io che Bella non mi sentivo proprio non mi piaceva L'Alabel non mi piaceva Laura io dicevo chiamami Cristina e mi arrabbiavo tantissimo Cristina Cristina chiamami Cristina perché Cristina perché era un nome che mi piaceva tantissimo perché ce l'aveva ce l'ha non ce l'aveva una un idolo Cristina Davena io persa per Cristina Davena volevo essere lei ma veramente era bravissima a cantare cose che io non ero perché io stonata come una campana rotta e lei lo vedevo così bella così carina così magica e dicevo mi arrabbiavo dicevo Laura chiamami Cristina quindi se mi volete fare un dispetto mi chiamate Laura ok quindi non chiamatemi Laura perché so che mi volete bene e non mi chiamate Cristina ormai perché l'ho capito che non c'entra niente con me ma il mio nome forse un giorno anche l'anagrafe sarà Lallix devo valutare perché devo capire perché io i miei figli comunque hanno una madre che si chiama Laura se io mi faccio cambiare il nome poi loro di chi sono figli quindi devo capire se in Italia e soprattutto il marito con chi si è sposato non vorrei che poi un'altra omoni ma si beccasse il marito no quindi devo capire un po' in Italia come gestire questa cosa ovviamente io ho dei motivi molto validi per voler cambiare il mio nome che sono legati un po' alla mia vita precedente si alla mia vita insomma un po' di quando ero piccola e si e quindi diciamo un po' assegnata per tagliarla un po' corta quindi il mio nome no Lallix ok io mi arrabbio tantissimo quando mi chiamano col mio nome è vero lo so che è quello all'anagrafe però se mi fanno il piacere di chiamarmi Lallix anche perché c'è tanta altra gente no che poi non si sente più in quel modo e si fa chiamare in tutt'altro quindi perché a me farmi questo dispetto e quindi il mio nome Lallix è il personaggio di domani pensavo che lo diceva la regista non l'avevamo già deciso prima io non me lo ricordo già più chi avevamo detto l'abbiamo deciso pochi minuti fa e chi avevamo detto ah l'avevamo deciso io Irisa perché non l'avevo mai scritto non lo ricordo ce lo ricorderemo poi domani speriamo di sì dove ha recitato Irisa fateci sapere nei commenti siamo super curiosi tra di voi ci sono due amiche che sono bravissime a indovinare due barra tre che sono proprio fortissime e indovinano subito quindi vediamo vediamo la community è cresciuta quindi adesso c'è anche la possibilità di premiare col badge di commentatore eccezionale quando indovinano le domande e non so se è il badge settimanale o mensile che è tipo una sorta di cocarda virtuale che arriva a quella più brava o a quello più bravo nel commentare in maniera coerente giusta veloce i video è bellissima questa cosa io non lo sapevo l'ho scoperta ieri e ve la comunico in anteprima perché non sapevo nemmeno che ci fosse non ho mai sentito parlarne però a me è arrivato proprio comunicato da youtube che c'è questa possibilità perché la community è affiattata youtube è contento dell'affiattamento che c'è comunque nelle community quando sono belle quando sono armoniose e quando ci sono interazioni si può fare in questo modo per interagire in maniera omogenea quindi pazzeschissimo io mi sono spaccata quando l'ho visto ho detto dai ho detto che figata cioè proprio bello 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 super togo e il prodotto di oggi è molto molto carino anzi sono tre guardate qua che bellezze abbiamo tre cosa cosa sono questi eyeliner ma io pensavo lip gloss eyeliner e i lip gloss li abbiamo già aperti quelli degli orsetti non me lo ricordavo più era quello nella pochettina azzurra è vero si si che tra l'altro è qua dietro è qua dietro la pochettina se vi va e non li avete ancora visti andate a recuperare gli altri video dove abbiamo unbox up faccetta skin care la palette degli ombretti e tante altre cose che c'erano lip gloss nella box si e tante altre cose della box molto molto carine oggi abbiamo gli eyeliner di Shiglam che bellini ma posso dire che non si può buttare la scatola sono da regalare all'amica all'amico del cuore ma anche alla mamma alla sorella alla zia come direbbero nelle descrizioni di io li ho già sbirciati devo dire che sono particolari da quale partiamo? partiamo da quello verde dai come il tema di oggi amo il verde ho visto del peluche non ci credo aspettate che amore ma dai sembrano quelli del Grinch che bellino no è bellissimo guardate che amore davanti è così e poi tutto peluscino bellissimo molto originale questi non si possono buttare mai questi bisogna tenerli bello lo provo poi si secca che bellino ma che bellino e si chiama Lucky Day noi abbiamo bisogno di Lucky Day allora suacciamo ma che bellino scrive possiamo fare anche guardate punta super fine potete usarlo così di sbieco per fare una roba grossa e invece proprio di punta leggero leggero per avere un tratto precisissimo una mini mini codina sottile bellissimo è un verde molto bello raramente si vedono eyeliner belli 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 secondo me io devo annusare tutto un'altra vita è un cane da tartufo non ha assolutamente nessun odore è bellissimo da regalare quanto costano secondo te lo sappiamo anche questi secondo me non più di 5 euro l'uno secondo me è tipo 3,50 sono così bellini che bellini ora quale quello rosa dai quello rosa sai che io mi aspettavo quando l'ho visto adesso che avesse dei glitter dentro invece no è lillino lillino è glicine o è lilla che bellino guardate peluscini sono proprio orsetti del cuore ballo che bellino questo come si chiama? molto morbido al tatto questo si chiama sweet as sugar dolce come lo zucchero come lo zucchero come lo zucchero allora fa piacere avere dei colori guardate che bello diversi dal solito e in punta in punta si bello il fatto che non abbiano fatto solo l'esterno il pack si che non sia nero guarda sono anche molto sottili carino 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 bello li utilizzeremo faremo dei make up carini bellissimo carino proprio e anche particolare il pack come avranno fatto a studiarsi questa cosa peluciosa e ora abbiamo questo il pack esterno è bellissimo comunque qua abbiamo allora l'orsetto della fortuna mi pare che abbiano anche il nome ma come faccio e neanche io adesso ma poi ce ne sono tantissimi questi sono particolari poi l'orsetto dei dolcetti e questo è l'orsetto con la stellina e il cuore ed è un pochino più soft qua all'esterno della scatolina che colore sarà già non sarà bianco vediamo eh sì questo è bianco come pelucino allora prima ve lo faccio vedere così con la scatolina io me lo aspettavo colorato a vedere da fuori e questi sono cioè bianco colorato però tutti e tre sono molto belli molto molto belli e ora lo sguacciamo e questo bianco come si chiama? questo si chiama vediamo true heart vero cuore è bianco e dai scrivi per essere bianco bellissimo bellissimo lo potete usare piatto per un tratto largo e appunto ovviamente per un tratto sottile sottile ma non credo che vi sto spiegando l'acqua calda però il fatto che scrivano tantissimo aiuterà a creare il tratto perfetto preciso perché se no se non scrivono perfettamente devi ripassarci sopra e magari poi non ti esce più tanto preciso viene una porcheria infatti belli allora i colori sono bellissimi io avrei sentito il bisogno di più colori almeno altri due l'arancione e il celeste almeno il bianco lo trovo un po' scontato non l'avrei fatto forse bianco l'arancione e il celeste secondo me erano molto belli molto molto belli io il celeste l'arancione ne avrei sentito l'esigenza mi tocca dire questo sono comunque bellissimi cioè non toglie che potrebbero anche farne altri prima o poi sono magnifici sono belli al tatto belli da vedere proprio danno una bella sensazione e secondo me il fatto che abbiano il peluscino sono belli da regalare a Natale perché danno proprio questa sensazione questa è la sensazione di bianco Natale soprattutto quello bianco e quello verde sono anche natalizie però anche questo è sfizioso bellini bellini sono molto molto belli fatemi sapere cosa ne pensate quale di questi tre ora metto anche le scatoline così le vedete le scatoline però le mettiamo nella stessa sequenza ok così quali di questi tre vi piace di più e se li forse li preferivate glitterati cioè si può applicare secondo me con un piccolo pennellino di precisione sopra anche un po' di glitterino trasparente a chi piace c'è da dire che se c'è il glitterino non si può togliere però sopra con i pennellini tipo piccolo 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 tipo questi così a parte che questo forse anche per le unghie vediamo se ne ho uno di quelli storti qua io ho sempre adesso ah si tipo questo guardate questo è il pennellino perfetto che è anche storto secondo me io mi trovo bene questo è un po' spettinato però in realtà va bene potete con precisione prendere un tipo un glitterino trasparente picchiettarlo piano 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 soprattutto nella parte grossa in quella finale non lo farei ma è anche liquido che forse si liquido magari però io lo metterò ovviamente trasparente così avete la colorazione che avete scelto in più un po' di glitterino o di perlescenza provate proveremo anche assieme fatemi sapere cosa ne pensate di questi eyeliner pelusciosi allegri super colorati non so se la regista vuole aggiungere qualcosina se no abbiamo detto tutto 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 allora perfetto fateci sapere tutto qua stato nei commenti fateci sapere anche come state come vi sentite perché noi siamo sempre curiosi di sapere come state e anche se vi va condividete un po' quello che vi succede nella vostra quotidianità no? se vi è successa una cosa bella se vi è successa anche una cosa brutta fatecela sapere così da insomma poter condividere insieme questo momento e aiutarvi anche no? a superarlo con un po' di supporto perché sicuramente se io per voi posso essere un'amica a me fa sempre tanto piacere anche appunto consolarvi un po' darvi una parola di supporto per anche ringraziarvi per tutto quello che fate sempre per noi i vostri like le vostre attenzioni i vostri commenti e condivisioni sono molto importanti e ci aiutano sempre tutti i giorni due volte al giorno se non di più perché ci sono anche gli short no? ci sono anche i post vi avevo messo addirittura un post che io mi dimentico sempre che esistono i post anche su youtube dove vi avevo detto che ho beccato il momento in cui erano le 11 e 11 del giorno 11 e 11 e vi ho fatto un post in quel momento perché me ne sono accorta e io ero troppo troppo contenta di condividere con voi un po' l'emozione di quel momento in cui si dice che in quel momento tutto è possibile si aprono porte portali di immensa felicità e grande fortuna io non so se ci credo se non ci credo però mi piace sognare e fantasticarci bene che dire siamo già arrivati al momento della fine la parola segreta ah la parola segreta di oggi è pelusciosi perché sono troppo carini e troppo pelusciosi e un cuoricino del colore che vi è piaciuto di più bianco verde o lilla perché secondo me è perfetto come emoji segreta per il video di oggi come sempre mi raccomando condividete con tutti gli amici e le amiche amanti del make up e delle chiacchiere in compagnia e schiacciate un like peluscioso se questo video vi è piaciuto ma non solo se non siete iscritte e iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi l'iscrizione ovviamente è gratuita e come dico sempre io vi sento che lo dite ci ora mancai a tra cosa come sempre vi mandiamo un bacio grande grande e ci vediamo nel prossimo video fatele brave i bravi e soprattutto abbiate sempre cura di voi grazie a tutti Grazie a tutti.